Allora, buongiorno a tutti, sono Maurizio Adroli, vengo qua per portare un saluto anche ai colleghi dell'Università del Salento, all'Agenzia dell'Innovazione e all'Agenzia di Puglia da parte del mio staff, SISAD, Scuola Internazionale Specializzazione di Albero Diffuso e Dipartimento di Economia e Territorio, Economia e Paesaggio dell'Università di Udine. Sono qua per parlare di partnering turistico, questo è uno dei libri della WTOBC, World Tourism Organization Business Council, che è l'organizzazione mondiale di tutti gli operatori economici, tour operator, compagnia aeree, catene alberghiere, network di agenzia e quant'altro in cui si dice bella la cooperazione, peccato non esiste un metodo. Questo è del 2000, ce ne sono altri del 2002. Ecco, noi siamo qua per parlare di questo metodo ed è una delle poche situazioni in cui si fa e in cui si lavora. L'obiettivo di questi incontri, che ci porteranno via circa 25 ore, vedremo se l'effetto caffè funziona, conteggeremo in minuti, ma comunque circa 25 ore è quello di creare un progetto, creare una scheda progetto, uscire con un progetto di iniziativa di co-marketing e partnering, eventualmente pubblico privato, non necessariamente pubblico privato. Fare squadra con il pubblico non ce l'ordina al medico, alle volte il pubblico è lui stesso che cerca di non fare squadra con gli altri. Quindi cominciamo da quello che c'è proprio dal basso. Ecco, in questo senso il partnering turistico, partnering turistico, partnering turistico pubblico privato è un metodo, una metodologia. Se infatti io vi chiedo le 4P, cosa sono le 4P? Tutte sanno che sono uno dei concetti chiave del marketing, giusto? Se io vi dico direzione aziendale, che cos'è? È uno degli aspetti della gestione d'impresa, giusto? Quello in cui un titolare ordina e i dipendenti, se sono in gamba, fanno le cose che chiede il titolare. Se sono bravi le fanno bene, se invece sbagliano su cose importanti, 1, 2, 3, 4, 10 volte il titolare le può licenziare, giusto? Mi coraggete se sbaglio. Adesso mi dite qual è il nome della disciplina che si occupa delle migliaia e migliaia di iniziative fatte da operatori, imprenditori, sindaci, presenti di una proloco, comitati che organizzano eventi, in cui nessuno può licenziare nessun altro. È il partnering, non ce ne sono. Ad oggi, se ci sono, magari, voi me lo dite, mi fate un favore. Però che io sappia oggi, porti in mezzo per il turismo. E quello di cui parleremo noi oggi, questo ve lo lascio, è un po' malconcio, perché come vedete è un po' lavorato. Ah, ecco, una cosa importante che vi posso dire subito è utilizzate la banca dati e la bibliografia dell'OMT. OMT e WTOMT, il braccio armato delle Nazioni Unite, chiamiamolo così, nel turismo, dal 2002, dal 2001, dal vertice di Doha, in Qatar, le Nazioni Unite hanno deciso che il turismo deve diventare il settore guida attraverso il quale i paesi in via di sviluppo, e non, ma specialmente quelli in via di sviluppo, specialmente quelli con grandi problemi di carattere economico, poi vi faccio alcuni esempi, devono puntare sul turismo per riequilibrare la loro bilancia dei pagamenti. Dal 2001, pensate, il turismo è un settore che cresce dagli anni 50 in poi, gli arrivi internazionali hanno sfiorato il miliardo fino al 2012, l'hanno superato nel 2012, il miliardo di viaggiatori internazionali, ma le Nazioni Unite si sono accorte nel 2001, anzi, hanno deciso nel 2001 che il turismo deve diventare il settore guida per questi paesi. Anche per i più poveri, come il Mali, anche per quelli più in crisi, come Madagascar, Madagascar è uno dei paesi con le economie tradizionali più forti, Madagascar, sapete, è uno dei paesi produttori di vaniglia, negli Stati Uniti e altrove, specialmente Stati Uniti e Nord America, un gelato su tre è al gusto di vaniglia. Avvento delle metodologie di produzione di aromi sintetici, il prezzo della vaniglia crolla da 4.000 dollari a libra, era molto cara la vaniglia, ed è molto cara la vaniglia naturale, non sintetica, crolla da 4.000 a poche decine di dollari a libra. Le economie di questi paesi entrano in crisi. Quello è uno dei motivi per cui le Nazioni Unite hanno deciso di portare avanti la bandiera del turismo, insegnare il WTO, WTO della bandiera delle Nazioni Unite. È uno dei motivi per cui da quel momento in poi, probabilmente anche per quello, forse, le Nazioni Unite, il WTO, ha iniziato a occuparsi di partnership. Quindi, consiglio mio personale è andare sul sito della UNWTO e vedere la bibliografia. Ci sono tanti casi di partnership, tanti casi, qui ce ne sono qualche decina, in tutti i paesi del mondo, e tutti affrontano problemi, boh, per certi versi diversi, ma per altri molto simili. Poi li vedremo. Saranno quelli su cui ci concentreremo noi. E ci sono altri libri belli come questo, che ripetono in maniera quasi, cioè attraverso le stesse parole, vedrete le stesse frasi, che, ma grado esista un generale consenso per la partnership, ad oggi un metodo non esiste. Questo è uno dei motivi per cui ritengo importante che voi siate qua, ritengo importante che voi usciate da qua con un progetto, con le idee più chiare, ma con qualcosa di concreto, oltre al sapere, ovviamente, cosa importante, cosa in più. Se non uniamo quelle persone, queste sono le persone che si raggruppano attorno a un progetto turistico, come vedete non sono 50, sono 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sono 7, 8, mettiamo che siano anche 10. La teoria dei giochi dice che, oltre alle 5 persone per gruppo di lavoro, si tende a fare confusione, si crea l'effetto condominio. Quindi, pochi ma buoni, la teoria dei giochi dice di sì, quindi non pensiamo di dover muovere masse di persone per fare partner in turistico, per creare una partnership turistica, ma se queste persone non si siedono attorno a un tavolo, il quadro, il prodotto turistico non si crea. A meno che non arrivi un signore che si chiama Aga Khan e compra, compra cose vostre e le fa diventare sue, li paga, bene, poi la vostra storia non l'avete più, la vostra storia diventa sua, ne fa quello che vuole, vuole fare un parco giochi su una nuova archeologica, non dico che lo possa fare, ma ha molte più discrezionalità di fare quello che vuole, ovviamente. Beh, se le persone, voi e insieme a voi, altri, non si metteranno intorno a un tavolo come quelle persone lì, il quadro non si crea, non si creano gli stacchi di innovazione grazie ai quali si è visibili sul mercato, è difficile personalizzare quanto viene offerto in tempo reale, non si coinvolgono altri operatori, altri fornitori, gli artigiani, le aziende agricole, le proloco, le proloco sono parte del prodotto turistico, chi organizza eventi, manifestazioni, momenti grazie ai quali il paese diventa visibile sul mercato turistico internazionale, magari per un giorno solo, ma diventa visibile. E non ci sono, o quantomeno, ci sono meno risorse, non più risorse per tutelare le risorse, per tutelare la natura. Non ci sono meno soldi per tutelare la natura. Questi sono i quattro aspetti di cui noi ci occuperemo. Visibilità di mercato, efficacia, personalizzazione, efficienza, coinvolgimento, equità, tutela, ecosostenibilità. Le quattro E. Questo cerca di fare il partnering. Non è importante, non è sufficiente fare soltanto innovazione. Le persone cercano prodotti personalizzati. Camere, alloggio, qual è il core business? La camera, l'albergo, anziché il B&B, anziché l'agriturismo, anziché l'albergo diffuso, anziché altre cose ancora. Ma non vengono soltanto per mangiare e dormire le persone, vengono per fare cose. Ecco perché è importante coinvolgere molti attori sul territorio. Fare squadra. Non perché siamo bravi o siamo santi. Certo, se siamo bravi siamo santi, santi è difficile. Però se siamo bravi, siamo generosi, uno può anche pensare. Ma per aumentare il fatturato loto di impresa, fatturato lordo, poi vedremo, oltre al netto, questo è fatturato netto, si vendono le camere in un albergo, questo è fatturato lordo, si vendono le camere con i servizi. E poi tutelare le risorse. Pensiamo che sia il pubblico che dovrà fare tutto? Giusto? Sbagliato? Ormai è finita. Il pubblico non riesce a fare bene neanche le cose che dovrebbe fare molto bene. Figuriamoci se riesce a fare cose che può anche non fare. Quindi il ruolo di chi fa partner è anche raccogliere banalmente soldi per tutelare le risorse che danno da vivere a quell'impresa, per tenere puliti i sentieri percorsi, per creare delle panchine nei posti più panoramici, per rientrodurre specie naturali, specie faunistiche rare, ad esempio, per tutelare quelle protette. Diversamente non c'è futuro in turismo. Di questo parleremo. Direi che è il caso di vedere un po' di cosa ci occupiamo. Allora cercheremo di fare così. Di ogni giornata di lavoro dedicheremo la parte finale all'applicazione. Un'ora, per ora, per ora un'ora. Le ultime giornate cercheremo di applicare un po' di più. Mano a mano che abbiamo chiaro lo scenario, cosa si muove nel mondo, certo non tutto, una parte, nella partnership. Chi fa partnership? Cosa imparare? Da chi imparare qualcosa? C'è qualcuno da cui poter imparare? Sì, grazie a Dio. Ci sono molti consorzi e molte partnership in Italia e anche all'estero. Pioniere del partnership turistico. Sono nate esperienze di partnership turistico ormai 50 anni fa, non sono novità. Quindi un'ora al giorno, per i primi due o tre giorni. Poi andremo giù di brutto sulla pratica. Chi di voi ha piacere, spero tutti, lo inviterò a lavorare in gruppo insieme ad altri su idee, possibili idee. Non dico che debbano essere realistiche, realizzate domani mattina, quantomeno fattibili, quantomeno ipotizzate come tali, di attività di co-marketing, culturale, sportivo e non gastronomico, wellness. Sarete voi, in base alle vostre sensibilità, a decidere il tema e il gruppo a cui aggregarvi. Personalmente il mio primo interesse era per il turismo archeologico. Dopo le scuole superiori ho avuto la fortuna e la responsabilità di occuparmi di scavi archeologici, mi occupavo di rivi topografici, con il metodo stratigrafico, all'interno di scavi archeologici, in Italia e fuori, e ho avuto modo di appassionarmi al turismo archeologico. Abbiamo sviluppato tra i primi pacchetti di turismo archeologico, si titolavano Scopri la storia con le tue mani, in cui l'ospite entrava in un'orze archeologica e non uno studente, pagante, ovviamente anche gli studenti sono importanti, ma di solito non pagano, però sono importanti, ma gli ospiti pagavano per partecipare a una campagna di scavo sotto la supervisione di un archeologo all'interno di un perimetro controllato, gestito dalla sovrintendenza e lo potevano fare on demand su richiesta e portavano soldi alla cooperativa che gestiva lo scavo, al museo, al comune, all'albergo, al ristorante, eccetera. Quindi vi prego di scusarmi se in questo periodo, in questi giorni parleremo magari di turismo storico, archeologico, ma visto anche il posto a cui voi siete abituati, io no, milioni di altre persone non lo sono affatto, qui ci troviamo, è naturale che andremo sul turismo culturale. Non solo quello. Vediamo subito, allora, perché un approccio dal basso? A me personalmente è piaciuto subito il titolo, Culture Lab, laboratori dal basso. Questo è quello che dice non un monello qualsiasi, ma il presidente di Federal Berghie. L'approccio dall'alto non funziona, non funziona, non funziona perché non esiste nessuno in grado di ordinare a qualcun altro, vi ricordate, di licenziare qualcuno che non fa quello che lui si aspetta. Il sindaco non può licenziare, che ne so, il presidente è una provincia, non può licenziare un sindaco, il sindaco viene detto ai cittadini, un imprenditore non può licenziare un sindaco, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco perché le politiche di settore calate dall'alto se non condivise, non condivise, ma non vuol dire io ti do un progetto, tu devi essere d'accordo perché questo è, quello resta. Se non condivise non riescono a produrre risultati, invece se condivise lo sarebbero, lo sarebbero e come? Quattro necessità di operatori turistici fanno sì che gli operatori siano sensibili a alcune cose, ma i progetti alle volte non vanno incontro a queste necessità, sono più dei progetti di facciata, più superficiali alle volte, quali sono queste necessità? Allora, gli operatori turistici alle volte hanno quattro necessità, per quanto riguarda il prodotto, offrire qualcosa di diverso, qualcosa che faccia scegliere me anziché Calabria, anziché Sicilia, anziché Grecia, anziché altre possibilità, opportunità, caratterizzarsi, diventare inimitabili o difficili da imitare. Oggi nel turismo tutti imitano tutto, quantomeno ci provano, non solo nel turismo, anche nell'industria dei computer, anche nell'industria dell'aredamento, della moda, tutti copiano tutto. Non è soltanto l'ipotesi di un mondo made in China, è uno dei problemi più grandi che un operatore trova e deve affrontare, quello del diventare difficile da imitare. Una cosa importante è, rispetto al paese in cui viviamo, sono i dati di World Brand Index, World Brand Index, trovate in internet, in cui si dice che l'Italia è il paese in cui c'è una altissima visibilità, cioè il brand Italia ha un'altissima visibilità verso il mercato turistico internazionale, specialmente per la qualità della vita, specialmente per le attrattive storiche turistiche in generale. Quello che dicono gli operatori è che l'Italia non ha bisogno di un buon brand, non ha bisogno di pubblicità, ha bisogno di offrire quello che il mercato gli chiede. E questo è l'italiano, il sogno di un paese in cui bere un caffè in piazza, cosa che già tour operator tedeschi fanno, mettono nei loro pacchetti. Chi non conosce TUI o Neckerman, operatori tour operator che gestiscono milioni di arrivi e di presenze a livello internazionale ogni anno? Beh, loro inseriscono nei loro pacchetti il caffè in piazza la domenica, il giro, il giretto in Vespa sui colli bolognesi, come la canzone è, il mito ispira, l'utilizzo della 500, la 500. Il nostro sogno italiano è una delle cose più importanti su cui gli operatori stanno lavorando, nel crocerismo, negli alberghi, vacanze da sogno, i dreams, il termine sogno è qualcosa che va al di là di quello che è la realtà che circonda le persone quotidianamente. Chi viene da Roma, dal Massachusetts, anziché da altri stati, specie oltreoceano, di fronte a cose come questa, come altre situazioni artistiche in Italia, come Firenze, non va incontro a crisi e rischi da disorientamento. Ci sono sindrome particolari, adesso mi sfuggono, Stendhal, sindrome di Stendhal e c'è un centro per il recupero da problemi legati al sindrome di Stendhal a Firenze. Gli americani arrivano in Italia, si trovano circondati, dopo aver passato 10, 20, 30, 40, 50, tot anni, in pianure sconfinate, dove c'è una bellezza naturale, magari elevatissima, ma a livello artistico c'è poco, niente, si trovano a Firenze di fronte, nella piazza, o Siena, o Piso, o qui a Lecce, anziché altrove, entrano in crisi dalla bellezza che hanno intorno. Questo è uno dei motivi per cui abbiamo scritto con Giancarlo Dallara, ripartire dalla bellezza. La bellezza è uno dei nostri asset principali, è talmente strano da essere quasi irreale, noi ci siamo abituati, in realtà la bellezza è una delle risorse meno valorizzate in assoluto in Italia, la bellezza del posto, del paesaggio, della gente e quant'altro. Quindi far rivivere il sogno italiano, in qualche modo. Vi potrei raccontare decine di aneddoti, c'è una cantina che vendeva vini in Cina, un'azienda di produzione enologica, vendeva vini, un vino non dava nessun tipo di risultato, si è provato a fare un esperimento, si è inserito un borgo, sull'etichetta della bottiglia, un borgo storico, avete presente i borghi col paesino sul cucuzzo della collina, stranamente in Cina, quella bottiglia, quel vino che da dieci anni era lì, ha fatto ping, così. Altri motivi non ci sono, nessun altro tipo di azione di marketing sta fatta su. Altre esperienze si indicano come vendere qualsiasi prodotto attraverso la bellezza del posto anche un vino, anche una conserva, una marmellata, una qualsiasi cosa. La bellezza è veramente smisurata e noi ci stiamo facendo veramente poco conto. La seconda necessità è quella di incrementare due tipi di mercati, luxury e low cost. Allora, è vero che la gente ha meno, diciamo che in media la gente spende meno, è vero che il PIL in media scende, ma questa media è un po' il frutto di due, a quanto meno non evidenzia, due mercati che stanno crescendo, luxury e low cost. È una delle cose più strane di questi anni, una delle tendenze che The Economist ha notato nel 94, se voi andate in internet, for richer, for poorer, già il nome The Economist la dice lunga, è dell'articolo, la dicono lunga, dicono questi signori ragazzi, l'economia che ci aspetta ai prossimi anni sarà o per i più ricchi o per i più poveri. Prepariamoci, nel 94 ce l'han detto. Io ho assistito a parecchi convegni in cui si dice che la ripresa è dietro l'angolo. È dietro l'angolo? Siamo sicuri? Ma cosa facciamo noi per far sì che quest'angolo sia vicino e non sia lontano ogni anno che passa? Questa polarizzazione del mercato, assolutamente la chiamo polarizzazione del mercato, è a solo cost in internet. Vi darò parecchi riferimenti, poi voi prendete con il dubbio di inventario, con il beneficio di inventario ogni cosa che vi dico, vi chiedo di verificare. Magari voi aggiungete dei pezzi che ho dimenticato, magari mi correggete, ben venga, nessuno è perfetto. Asso low cost, raggruppa brand come Dacia, gruppo Renault, Skoda, gruppo Volkswagen, camicissima, assicurazioni online eccetera. Il mercato, i produttori low cost tengono botte, in alcuni casi crescono, crescono, il low cost cresce, ma non cresce soltanto nel turismo, i voli low cost, non crescono soltanto la formula cost nel turismo, ma crescono in tutti i settori, anche nell'alloggio, poi si può entrare nel merito, nell'abbigliamento e via e via dicendo. Insieme a questo cresce il new luxury, cosiddetto luxury, in realtà sono due fenomeni in parte collegati. Il luxury, andate a vedere fondazione alto di gamma, scusate, fondazione alto di gamma online e trovate indicazioni su come si sta muovendo il mercato alto di gamma. In alcuni casi tengono botta, in alcuni casi crescono, in altri casi fanno registrare volumi, record di vendite nel 2010, 2011, 2012. Quindi, come dice un proverbio vietnamita, il bisonte che arriva tardi alla pozza dell'acqua deve accontentarsi di bere l'acqua sporca. Qua è una lotta ad arrivare primi sui mercati low cost, primi sui mercati luxury. E la lotta è come un bivy in autostrada, avete presente un bivy in autostrada? arriva a un certo punto in cui devi scegliere destra o sinistra, non c'è spazio al centro. Il mercato al centro, il mercato per l'impiegato, per l'insegnante, per l'operaio, per il dipendente pubblico, per qualsiasi altro tipo di ceto medio, si sta sottigliando sempre più. Poi vedremo, se volete approfondiamo anche qua. Mentre la clientela luxury in proporzione sta aumentando e la clientela low cost stanno aumentando. In pratica è una modifica strutturale del mercato, cambia la struttura del mercato, cambia la struttura della società, cambia la struttura del mercato. Sempre più gente che guadagna poco e sempre più gente che guadagna molto, o l'alto o il basso. Chi guadagna così così diventa sempre più raro. Questo è uno dei motivi per cui svegliarsi, per cui correre, per cui armarsi, zaino in spalla, delle proprie idee, delle proprie convinzioni e andare avanti perché il mercato dà ragione a chi fa queste cose, il mercato, il tour operator, l'agenzia d'incoming, l'ospite che viene da Monaco, da Berlino, eccetera, eccetera, eccetera. Il mercato premia chi fa queste cose, gli altri hanno problemi. Quindi la mia prima indicazione per lo sviluppo del progetto è pensare a un'idea di progetto di co-marketing che metta al centro di questo come caratterizzarsi, come diventare difficile, far vivere il sogno italiano a Lecce, anziché a Brindisi, anziché altrove in Puglia, anziché altrove ancora. Uno. Due. Come incrementare, verso quale mercato puntare? Low cost o luxury? Attenzione che non è facile fare le due cose insieme. Un mio amico gestore di albergo dice non possiamo dare un servizio di alta qualità alla coppia di tedeschi che si siedono al tavolo e al tempo stesso lanciare i piselli con la fionda a chi paga, no? 45 euro o 40 o 30 euro a pensione completa in un albergo. Quindi che non ci dà ricardo, non ci dà utile. Diventa difficile fare le due cose insieme. Si può provare, ma è molto difficile. La terza cosa che preoccupa gli operatori del turismo è evitare corsi a ribasso o uscire da guerre commerciali. Guerra dei prezzi. Avete mai sentito questo termine? Dumping. Cos'è? Concorrenza sleale. Alberghi 4 stelle che quando ne hanno pochi di ospiti vendono il prezzo di 3 stelle. 3 stelle che vendono il prezzo di pensioni da 2 stelle. E via dicendo. Concorrenza. Guerra dei prezzi. Vince chi fa più sconto. Questo vuol dire tante cose. Vuol dire possibilità, qualche possibilità più di vendere a prezzi bassi, certamente. Fare flussi di cassa, cash flows e soprattutto nel medio termine in generare problemi di utilità, di utile d'azienda, di utile d'impresa. Vuol dire far girare flussi di cassa con un utile sempre più basso. Quindi lavorare gratis. Questo è uno dei problemi che denunciano molti operatori. Chi non è abbonato a TTG Notizie considera di abbonarsi a TTG Notizie. Chi di voi non è abbonato a TTG Notizie? Eh, anche questo è gratis, è no cost. Quindi tutte le cose no cost. Bisogna sfruttarle a pieno. TTG Notizie ha una newsletter che se voi vi abbonate e date la vostra indirizzo di posta elettronica vi manda ogni settimana, alle volte più spesso ancora, quasi ogni giorno, dipende da voi, il suo numero, in cui gli operatori parlano e voi sapete cosa dicono. E da queste cose imparate i loro problemi, le loro preoccupazioni. Perché il partner in turistico nasce dagli operatori. Quindi non dobbiamo dimenticarci mai questo. Quindi, come evitare di cadere in queste corse a ribasso? Come uscire dalla guerra commerciale? Come far sì che le vendite torino a produrre utile? Senza questa io chiudo, licenzio. Se non è utile licenzio, con cosa pago il personale? Con cosa pago il mutuo in banca? Con cosa pago? Con cosa faccio investimenti? Ve lo dite? Lo Stato? Ma stiamo scherzando? Ma dove? Ma quando? Ormai lo Stato dà qualcosa? Dà poco. L'Europa dà qualcosa, dà 25 mila euro per gli start-up. Bene, ok? Saranno bene? Qualcuno ci va a nozze con queste briciole, si sa usare bene. Ok? Quindi benvengano, benvengano, a mio modo di vedere, la fine degli investimenti faraonici. Grazie a Dio ci sono arrivate le vacche magre che ci fanno pensare a come usare al meglio l'euro, non i 25 mila euro che possiamo spendere, l'euro. Perché così da sempre tra gli operatori privati. Quanto costa, quanto rende? Cominciamo forse a essere un pochino più concreti. Promo vendita. Oggi fare marketing sul mercato globale è sempre più rischioso, non perché sparino, ma perché non sappiamo il problema appunto è aumentare la resa del budget di promozione. Questo un po' in generale. Quindi le necessità degli operatori possono essere repilogate in due punti. Uno, il marketing individuale si vuole fare in modo che aumenti i risultati, riduca i costi, ridurre i costi e aumentare i risultati. Cioè aumentare la produttività del marketing individuale. Dall'altra parte, più pressante, che non riguarda però il marketing ovviamente, ma riguarda l'impresa, come sopravvivere, come andare avanti, come pagare i dipendenti, come mettere a posto le camere, come dotare le camere di un televisore con schermo al plasma anziché la casa di un caminetto in più, come investire e quindi come aumentare l'utile di impresa prima ancora. Quindi queste cose qua sono la base, il perché, alcuni, due, dei perché, insieme ad altri, del partnering e del co-marketing turistico. Fare marketing turistico oggi, certo, non è che non piaccia al pubblico. Questo è quello che si scrive su questo libro, ma potremmo trovarlo anche altrove. Il turismo è sempre più chiaro che sarà uno dei settori importanti. Questo provocherà un aumento delle partnership e già nella logica delle cose. Contratti di rete. Chi di voi non ha sentito questo termine? Contratto di rete. Lo conoscete? Contratti di rete sono una legge del 2009-2010. Il contratto di rete è una lettera di intenti, il letters of intent, è una prassi consolidata nel mondo degli affari a livello internazionale da decenni. Abbiamo fatto una legge sul contratto di rete. Questa legge ha qualche soldino per chi si mette insieme. Beh, è già qualcosa. È un segnale che ci viene dato. Questo provocherà un aumento delle parsi tra pubblico e privato per assicurare la competitività di lungo termine delle destinazioni turistiche. Ecco, allora il mio problema, il mio come tecnico del settore turistico, è uno. E quello delle imprese è uno. Questi problemi possono essere epilogati in un concetto. Difendibilità del vantaggio competitivo o vantaggio competitivo difendibile. Creare un vantaggio competitivo che sia difendibile nel tempo. Competitività di lungo termine. Cosa vuol dire? Che sono competitivi e che continuano ad essere competitivi. Ecco, questa è una delle novità che c'è nel panorama delle teorie di management negli ultimi trent'anni. Novità in trent'anni, certo, non è dire proprio una cosa nuovissima. Però da poco si sa ancora di questo. Una parentesi teorica che prechiudo velocemente. A partire dal 1980 la teoria del vantaggio competitivo introdotta da Michael Porter è diventata legge. Vantaggio competitivo sappiamo quali sono gli orientamenti. Da qua nasce l'analisi SWOT, minacce, opportunità, punti forti, punti deboli. Da qui nascono un insieme di indicazioni che hanno aiutato le imprese a svilupparsi in un periodo in cui l'economia, l'Europa, nei paesi locomotori, tradizionali, l'uripo turistico ed economico, Europa, Stati Uniti, Giappone, andava bene. L'economia in questi paesi andava bene. Ma da qualche decennio, appunto da circa trent'anni, l'economia non è florida come lo era un tempo. E allora ha iniziato a diffondersi una teoria che non è più quella della market, non è più di Faulkner e di altri, ma è la resource based theory. Una teoria che dice che se tu vuoi lo sviluppo di lungo termine, l'unico modo, oltre al precedente, di guardare i prodotti, penarello, libro, proiettore, torta, soppressata, qualsiasi prodotto noi abbiamo in mente, oltre a guardare i prodotti, devi guardare alle risorse grazie alle quali tu li produci. Risorse umane, la storia del luogo, tradizioni produttive, la reputazione del brand della tua impresa, le relazioni fra operatori. devi guardare alle risorse grazie alle quali tu produci quello che produci. Mi spiego? In questo senso diventa forse comprensibile anche il perché del leapfrogging, del salto, delle vendite di quel vino. Nel momento in cui è entrato il borgo, quella bottiglia, parità di qualità di vino, è diventata un qualcosa che incorpora le risorse culturali di un paese, il borgo, le tradizioni, millenni di storia. L'Italia, agli occhi del mercato cinese, con un semplicissimo inserimento e un'etichetta. Questo non so se ne parleremo, magari se ne pensiamo in mente, le possiamo approfondire, ma queste sono delle novità più importanti, personalmente una delle cose di cui mi occupo, perché dal 1993, da quando mi occupo di turismo, molte cose sono cambiate, ma questa cosa è sempre più vera. Ad oggi mi occupo di alberghi diffusi e paesi albergo, quindi il sviluppo del turismo rurale con Giancarlo Dallara, a cui cerco di dare una mano per sviluppare il modello di gestione dell'albergo diffuso. Come responsabile dell'Associazione Nazionale di Alberghi Diffusi per la formazione, cerco di aiutare anche gli alberghi diffusi a valorizzare, a far rendere soldi, perché non è che non siete dati a fare filosofia qua, fare rendere soldi o evitare di perdere soldi, di continuare a perdere soldi, grazie alle risorse che abbiamo a disposizione. Evitare di continuare a perdere soldi, basta perdere soldi. Questa è la logica di chi lavora nel turismo oggi, basta perdere soldi. Quando andiamo in Slovenia, in Spagna, in Austria, altrove, gli operatori si riuniscono e dicono dove stiamo perdendo soldi? Ci chiedono un noleggio e noi non lo diamo, perdiamo soldi. Ci chiedono un corso di cucina e noi non lo diamo, perdiamo soldi. Ci chiedono un'escursione sub o un'escursione in barca e noi non riusciamo a far arrivare l'informazione? Perdiamo soldi. Siamo un colabrodo e a me questa cosa sinceramente è sempre stata qua. Dal 1993 in poi ho imparato che in altri paesi come la Spagna il turismo era un settore industriale, qua era frutto semplicemente di puntini puntini. Ciascuno ci mette al termine che preferisce. Ma devo dire che dal 1993 ad oggi poco è cambiato in questo settore in Italia, poco è stato fatto in questo settore per farlo diventare un settore industriale. Quindi l'albergo diffuso, ne parleremo, ne acceneremo dopo, è una delle cose che ci può insegnare di più, perché non serve essere grandi per raggiungere quei salti, per far crescere il turismo in modo virtuoso, il reddito in modo virtuoso, avete visto prima la chiocciola. Ok, allora i nostri pubblici, i nostri sindaci, assessori, sempre di più il turismo è importante, sempre di più la partnership è importante. La competitività è l'elemento cardine della destinazione. Questo non lo dice un assessore o un sindaco, senza non togliere l'assessore ai sindaci, lo dicono presidenti, il capo del WTOBC. Si può diventare competitivi soltanto attraverso la cooperazione e la partnership pubblico-privata. Però, c'è un però, malgrado questo, questo è quello che si dice. Oggi non si intravede un metodo, è una formula adatta a facilitare la partnership. Beh, da quando è caduto il muro di Berlino, nell'89, era evidente che ci serviva un qualcosa che aiutasse la cooperazione fra blocchi, fra sistemi, fra imprese. Negli anni intensivi questa importanza è aumentata, nel 2002 è aumentata grazie anche la presa d'atto dell'organismo internazionale, ma continuava a mancare un metodo. Qual è il problema, dal punto di vista delle imprese? Il problema è che le imprese, i sindaci, gli assessori, i regionali anche, tendono, mettiamoci dal punto di vista delle imprese, tendono a raggiungere il reddito attraverso il management e il marketing e quindi i meccanici competitivi. Il rapporto è verticale, gerarchico. Dall'altra parte ci sono chi dice no, dobbiamo raggiungere il reddito anche attraverso un rapporto orizzontale, tra simili, tra pari. Ci sono degli ostacoli fra imprese e la partnership, non tutte le imprese vogliono entrare in partnership. Tra la partnership e la competitività, alle volte l'unione non fa la forza, fa il carrozzone e tra competitività e reddito, alle volte si è competitivi, ma si è competitivi ad esempio verso segmenti di mercato che sono poco remunerativi. Boy Scout, tutto il rispetto per i Boy Scout, ma si porta dietro anche l'acqua minerale, spendono poco, alcuni veramente non spendono quasi nulla. in realtà serve fare le due cose, ecco il parling turistico e il marketing sono un po' come le due gambe che caratterizzano qualsiasi persona, qualsiasi impresa, qualsiasi attività. Non si può fare marketing individuale senza fare marketing in squadra, non si può fare tutto da soli e fare niente insieme ad altri, è come andare in giro con una gamba sola. Provate poi a fare una corsa con chi invece ha tutte e due gli arti sviluppate allo stesso modo. Noi in Italia siamo un po' come una persona che ha un arto destro-sinistro molto sviluppato, una gamba destro-sinistro molto sviluppata, è una delle due gambe atrofizzata. Magari c'è, la struttura muscolare c'è, i tendini ci sono, ma i muscoli sono atrofizzati, come dopo un mese o due di gesso che ha provato a avere una gamba rotta, un altro rotto, ci sono problemi di riabilitazione. Noi dovremmo essere riabilitati a fare marketing, eco-marketing, a fare cose da soli e insieme ad altri. Bene, fin qua probabilmente non ci sono domande, anzi, ah bella cosa, vi chiederei una gentilezza perché il laboratorio di basso prevede che io vi chieda voi cosa vi aspettate da questo seminario, giustamente, voi siete il motore di questo laboratorio. Allora vi chiede gentilmente di prendere un foglio di carta e di scrivere 1, 2, 3, 4, 5, massimo 10 cose che voi vi aspettate da questo seminario, senza nome e cognome. eh? Ok? Mi fate questo favore? Così mi aiutate a impostare l'attività, perché l'attività questa è una bozza, insieme la possiamo anche modificare con approfondimenti, deviazioni accelerazioni o accelerazioni, in base a quello che volete voi. grazie. 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 Cosa vi aspettate voi da questo laboratorio, seminario laboratorio, da questo parling eco-marketing turistico? Grazie a tutti. 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 In modo sintetico, non serve che scriviate un trattato o simili. Grazie a tutti. 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 Tutti lo avete scritto, immagino. In realtà qualcuno che ci ha dato ricco c'è stato, ma non so se è grazie a questo seminario, però attraverso l'albergo diffuso sicuramente questo è dato una mano. Pippo, pippo, pippo. Pippo, pippo. Pippo, pippo. Pippo. Grazie. Grazie. Ci siamo tutti? Bene, ho spiato le prime richieste, ci siamo, ci siamo. Ci siamo, poi entriamo nel merito, perché finora non ho letto la più importante, dal mio punto di vista, però magari è in quelle dopo, vediamo dopo la pausa. Allora, intanto cominciamo con il conoscere, come richiesto, alcuni casi di studio concreti, esperienze concrete di fare squadra nel turismo. L'Italia ne ha. Uno dei problemi di questo paese è che non se ne parla. Cioè, sto lottando da anni perché ci sia qualcuno che crei un momento d'incontro per le partnership turistiche. Altre, non di una fiera, di settore, di... Oh, mica facile, no, finora non ci sono riuscito. Però, il raccontare, il dire, il condividere come fare squadra tra operatori è una cosa più importante, o no? Come sono riuscito io? Certo, i miei problemi possono non essere identici ai tuoi, anzi, in moltissimi casi non sono. Ma come ci sono riuscito io? Ho trovato io la mia strada? Forse ti può essere utile sapere, perché anche tu puoi trovare una strada simile alla mia e risolvere quel problema che magari ho avuto io prima di te dieci anni prima, venti, quindici. L'Italia, nel fare squadra, è in ritardo. Non solo in questo, purtroppo anche in altre cose, ma in altre cose siamo in avanti, siamo avanti rispetto ad altri. Beh, l'albergo diffuso è uno di questi casi di eccellenza da cui imparare. Ah, parleremo anche di casi di insuccesso? Non consideriamo l'isfrutto della sfortuna, consideriamo importante imparare cosa non fare dai casi di insuccesso e cosa è importante fare dai casi di successo. Quindi ogni caso può essere utile. Anche sapere perché un consorzio ha avuto problemi può essere utile. Perché quel consorzio ha avuto problemi? Punto di domanda? Eh, non c'erano soldi. Ok, come mai non c'erano soldi? Eh, il pubblico non paga. E come mai non riuscivano a bastare gli autofinanziamenti dei soci? Eh, gli autofinanziamenti non autofinanziano. Ah, ok. Non c'è un euro di finanziamento da parte dei soci. Questo è uno dei punti esclamativi, uno dei problemi principali. I soci non pagano abbastanza, ma i soci pagano in funzione a quanto rendono, ritengono importante un prodotto, un computer, un libro, una penna, una scrivania. La partnership è come un prodotto, come una marmellata. Ti conviene? La compri, paghi. Non ti conviene? Non paghi, non compri. Non è qualcosa che ci obblighi il medico a fare partnership, nemmeno a pagare. Si chiama ROI on partnership, return on investment in partnership. Cosa mi porta sta roba? Porta qualcosa o no? Perché se devo cacciare un euro, venti o cento, mille, e non me ne portano uno, cento, mille, io sono in perdita. È chiaro? Quindi la partnership è un prodotto, è anche una risorsa, ma è un prodotto. Vediamolo come un pennarello. Mi può essere utile, la compro e pago da socio, pago per la partnership. Non mi può essere utile, perché dovrei pagare. Allora, questa roba qua invece è una roba che funziona anche senza finanziamenti pubblici. Strano. Però, in Friuli, dalla ragione da cui vengo, di finanziamenti ce ne sono molti, troppi. Personalmente mi sono abbattuto perché ne abbassino. No, perché facciamo una legge migliore. Tale da far diventare l'albergo diffuso non un collaboratore, vedremo dopo perché. Ma un'impresa che sta sul mercato con le proprie gambette. Come succede in altre regioni. Il centro, del sud, del nord. Questo è, per intenderci, l'albergo diffuso di Montemaggior al Metauro. Questa è sede di Pesaro Urbino. Questa è sede di un albergo diffuso, si chiama I Due Campanili. Il centro storico ha la peculiarità di avere appunto due chiese vicine l'una all'altra. Per intenderci, è un'ex casa di tolleranza. Il borgo, pensate, aveva attorno alle chiese un circuito di case che era in un bordello. Un imprenditore ha detto mettiamoci insieme a alcuni proprietari di case, mettiamo insieme quello che ho io, le mettiamo a posto e creiamo un albergo diffuso. È nato così, l'albergo diffuso ha I Due Campanili, Re e Le. Un bel albergo diffuso in cui vi consiglio di guardare. Allora, che cos'è l'albergo diffuso? Secondo Giancarlo Dallara, che è il papà, diciamo così, del modello di ospitalità, è due cose. È un modello di ospitalità originale ed è un modello di sviluppo turistico del territorio. Per altre informazioni su come è nato l'albergo diffuso, questo è il sito di riferimento www.albergodiffuso.com Cominciamo dall'albergo diffuso come modello di ospitalità. Qui avete alcuni esempi, poi questo slide ovviamente ve lo lascio, così voi cliccate e andate a vedere se il link è rotto, digitate l'indirizzo sulla barra degli indirizzi e ci arrivate comunque. Ci sono oltre 70 alberghi diffusi iscritti al sostegno nazionale alberghi diffusi. Nel 1995 ce n'era uno. I soci, quando abbiamo creato l'associazione nazionale alberghi diffusi, soci tecnici eravamo in tre. Di soci albergo diffuso ce n'era uno. Oggi sono 70, dal 2006. Quindi c'è un aumento. Questi sono alcuni esempi. Il vecchio convento è in Emilia Romagna, due campanili l'abbiamo visto. Lazio, Puglia, Sicilia. In Sicilia ci sono degli ottimi alberghi diffusi, cooperative. Cooperative che gestiscono alberghi diffusi. Lazio, insomma, dalle Alpi alle piramidi abbiamo un insieme. Questo è un menù per farvi fare un giro turistico tra gli alberghi diffusi d'Italia. Per farvi vedere che non è una bubola, non è un'invenzione di qualche politico, è un'impresa. È un'impresa che però sta in piedi grazie alle relazioni che si creano e al partenariato. È diffusa in più regioni e paesi. Questo è un strato di una mappa del solo 24 ore. Non c'è rivista nazionale importante che non ne abbia parlato. All'estero, Belzeitung, Algemeinanz che New York Times hanno scritto sull'albergo diffuso più di una volta, chiamandolo albergo diffuso, non scattered hotel. Quindi è un modello il cui nome viene lasciato inalterato all'estero, come Bed and Breakfast in Italia per intenderci. Tre, in Friuli, Emilia Romagna, Liguria due, Val d'Aosta uno, Piemonte uno, Toscana e in Puglia ce ne sono cinque. In questa regione, ce ne sono altri anche in Sardegna e in Sicilia. In questa regione, Trulidea, ad esempio, è un albergo diffuso di successo, che è questo. Albergo diffuso di successo. Poi c'è Trulidea, quindi ovviamente parliamo di albero bello in questo caso, ma non soltanto albero bello. Ecco, qua in questa regione, non entriamo in bani particolari, ma se lo volete, eventualmente un richiamo possiamo cercarlo, cercare di farlo. C'è una legge regionale che sta migliorando, come in altre regioni, come in Friuli ad esempio. Per cui l'albergo diffuso si è usato per indicare un ricovero per rispondere alle esigenze di persone immigrate. Non è un albergo diffuso, ovviamente, quello è un punto di accoglienza per persone immigrate, non è una proposta turistica, non è un prodotto turistico. Pensate, la capitale dell'albergo diffuso, qual è? Secondo voi, quanti abitanti ha? La capitale dell'albergo diffuso è un paesino in Sardegna, nel centro della Sardegna, voi sapete quante persone vanno in Sardegna per il mare rispetto a quante vanno per l'introterra, più o meno? Quasi tutte, inoltre il 92-93%. Beh, Santo Lussurgio è un paesino nel centro della Sardegna, qualcuno di voi lo conosce? Santo Lussurgio è un paesino nel centro della Sardegna in cui è nato un primo albergo diffuso, poi è nato un altro, se non sbaglio ce ne sono tre. Questo per farvi capire che questa proposta può nascere ovunque, quasi ovunque, non ovunque, ma quasi ovunque in un paese che conta 20 milioni di vani vuoti. Vani sono camere, cucine, soggiorni, non locali di servizio tipo bagni o corridoi o verande o garage, cantine. 20 milioni. E io mi scandalizzo, lo dico ovunque, come mai non c'è un piano per valorizzare questi 20 milioni di vani vuoti nei borghi italiani, di cui noi siamo letteralmente pieni. Beh, possono essere tanti questi numeri 70, per me non sono niente rispetto alla potenzialità che ha questo paese. Che cos'è? Il concetto è semplice, questo lo trovate sul sito dell'Associazione Nazionale Alberghi Diffusi, che è www.alberghi-diffusi.it. Un po' casa e un po' albergo. Per chi non ama i soggiorni in hotel, attenzione, i clienti sono diversi, poi eventualmente lo vedremo. E in poche parole è questa la forma dell'afitalità che prende il nome di albergo diffuso. Le sue componenti sono dislocate in immobili diversi, due o più edifici. Si trovano all'interno di uno stesso borgo, un paese. L'aggettivo diffuso denota una struttura orizzontale, cioè segue il profilo del paese. Alle volte l'albergo diffuso comprende case a distanze anche eccessive, come in Friuli ad esempio, quindi va anche nella vallata. In quel caso parliamo di paese-albergo, infatti più che di alberghi diffusi. Non è verticale, come quelle dell'alberghi tradizionale, in cui schiaccia il pulsante e va al piano superiore. Simile a un condominio. È orizzontale, quantomeno segue la linea, la skyline, cosiddetta, la chiamiamo così in tecnici, del borgo. Skyline, concetto nato negli Stati Uniti a seguito della nascita di albergo diffusi, ma di grattacele a partire dall'Ottocento. Mentre il termine albergo indica che sono disponibili i servizi alberghieri. Ecco, quindi un paese che si mette insieme con quella di offrire un territorio, delle camere, una ristorazione, un prodotto che abbia caratteristiche alberghiere. Questa è un po' la novità. Mentre altre esperienze mettevano in un'interazione di andare all'alberghiero. Cosa offre? Alloggio, piccola colazione, ristorazione con o senza servizi, cioè non il buffet, 20 metri di tavolo di buffet per intenzione, ma sicuramente un buffet e una colazione di qualità, molte volte locale, ristorazione con o senza servizi in camera, anche il catering è previsto, forniture, biancherie, pulizie, assistenze o formazioni di 24 ore su 24, orario d'ufficio sono le 8, 10, 12, quello che è ora, poi c'è la reperibilità notturna. Se dovesse essere necessario un bambino che ha la febbre, qualcuno dovrebbe rivolgermi, potrebbe andare a fare chissà dove, non succede spesso, però un numero di casi di emergenze. E questa è la reperibilità telefonica. Le caratteristiche di base sono queste del modello di ospitalità. Standard alberghiero, una gestione unitaria, vuol dire che le case sono di più proprietari alle volte, molte volte sono di più proprietari. C'è anche il caso in cui la multinazionale crea alberghi diffuso, Four Seasons sta creando alberghi diffusi, ma lì è lui da Londra che comanda, è il dipendente in Puglia che esegue. Però in quel caso la gestione è unitaria, ma in altri casi sono cooperative, in altri casi sono SRL, in altri casi sono SNC, in altri casi sono ditte individuali, ma anche se le case sono di più persone, la gestione è unica. Chi vende è uno, chi promuove è uno, chi gestisce l'ospite è uno, chi porta in casa è uno. Ci sono sempre quelli, anche se le case sono di più persone. Abitazioni dislocate, abitazioni dislocate in minimo due edifici separati, due, non uno, due separati, preesistenti, non si costruisce niente di nuovo. Servizi in comune, comuni, tipo il locale di accoglienza dove c'è un salottino, anziché la biblioteca, anziché un posto dove poter far giocare bambini o far vedere un cartone animato quando piove, ad esempio, o puntini e puntini, tante cose, ma locali comuni in cui le persone possono stare insieme anche senza pagare, perché per sedersi in un bar, per sedersi fuori, alle volte bisogna pagare. L'Italia ha perso un po' della cultura di ospitalità che aveva. Per sederci a Venezia, per sederci al Trovo, dobbiamo pagare, a meno che non ci rischiamo di beccare in alcuni posti una multa. non ci si può sedere. In alcuni casi è vietato mangiare un panino in una piazza. Ci sono casi in cui abbiamo perso veramente la cultura dell'accoglienza. Altri casi, ovviamente, di uso smodato del territorio, da parte dei turisti, ovviamente. Però, servizi comuni. Distanza tra gli stabili ragionevole, l'abbergo diffuso in media unisce case che hanno due o trecento metri di raggio dal punto di accoglienza, due o trecento metri, cioè vuol dire che non sono obbligato a prendere la macchina per fare colazione. Ecco perché è lo standard alberghiero. Ci posso venire tutti i mesi dell'anno in un albergo diffuso. Anche quando piove, due o trecento metri a piedi, duecento metri a piedi li faccio in un borgo, anche volentieri. Certo, devo fare 4, 10, 15, 20 chilometri. Beh, forse in dicembre ci vado perché è Natale, magari c'è la neve, anziché no, ma novembre, ottobre, settembre... non così volentieri. Comunità viva, alcuni dicono il borgo vuoto, abbandonato, diventa un albergo diffuso. No, non è un albergo diffuso, può essere un residence, un borgo hotel, può essere altro, di bello, bellissimo, stupendo, ma non un albergo diffuso, perché le persone cercano persone. Per chi viene da Monaco, da Berlino, da Londra, la vecchina del paese è la memoria storica di quel paese. Il macellaio con cui parlare, scambiare quattro chiacchiere è fondamentale. Le persone nel posto sono fondamentali. Nascono amicizie, cercano amicizie, cercano relazioni. Ci sono persone che fanno amicizie e tornano da New York, da Boston, da Londra, da Roma, da Napoli, da Torino. Vanno nel albergo diffuso perché lì hanno trovato amici. Dopo essersi fatti invitare a casa a mangiare la griglia, da un friulano, caso per questo che è unico, che è molto difficile che le persone del nord diventino ospitali come lo intendiamo noi, come lo intendete voi, ma in alcune circostanze gli ospiti sono talmente rispettosi della cultura locale che è quasi impossibile non fare amicizia con loro. Non vogliono parlare neanche l'inglese, non vogliono parlare il tedesco, vogliono cercare di imparare l'italiano e di imparare la lingua del posto. Il dialetto. Abbiamo fatto di tutto per eliminare questi dialetti, invece diventa una delle mole più importanti dell'economia, nel turismo. Un ambiente tipico, il borgo è sempre autentico, il borgo non è mai artificiale, non siamo a Disneyland, Parì, ovviamente, quindi dire borgo autentico significa dire aria respirabile o aria allo stato gassoso. È chiaro che l'aria allo stato gassoso non è solida, può essere ossigeno liquido, ma non è aria. riconoscibilità e stile gestionale integrato nel territorio e nella sua cultura. Un albergo può essere ultramoderno, io sono alloggiato in un albergo ultramoderno, perfetto, comodo ospitale, ma è un albergo da fare, è un albergo congressi. L'albergo diffuso invece non è mai avulso dalla cultura, dal contesto culturale in cui si trova, è sempre un gioiello, molto spesso è un gioiello. Pensate in Sardegna, chi ha fatto alberghi diffusi ha fatto prima il forno per cuocere i mattoni a crudo, come lo facevano i romani in Sardegna. Poi ha fatto i mattoni, gli archi di mattoni a crudo all'interno delle stanze per assorbire l'umidità. In alcuni casi, in alcuni casi, hanno fatto molto altro, ricerca sulle tecniche di lavorazione dei materiali, del legno, della pietra, in molti casi sono dei veri e propri gioielli, per i diffusi si paga anche 200 euro a notte, jacuzzi incastonata in un pavimento recente, in pietra, impianti elettrici ultra sofisticati, invisibili, un'eleganza sofisticata, soft, ma che seduce e che rende. E che rende. Oh, i prezzi variano da 25 euro a notte ai 200 e oltre. E il nome nasce in Friuli, è un poeta, pensate che bello, mentre le due formule alberghiere tradizionali che sono diffuse nel mondo sono la César Ritz, lo stile Ritz, lo stile dell'albergo a tutto suntuosità, rigido, in cui l'orario della cucina è questo e questo, in cui vige la cultura dell'apparente nobiltà dell'ospite, c'è la reverenza del personale, è nato da un'idea geniale di César Ritz, ristoratore che nel 1800 ha notato come la classe borghese che stava nascendo aveva un'unica necessità, aveva i soldi, aveva lo status, ma aveva un'unica necessità, essere trattato da nobile, come nobile non era, nobile non era, la chiamano in versione rituale, quindi l'ospite è trattato come un nobile negli hotel César Ritz, abbiamo detto, è la nobiltà un po' ovunque. L'altro stile è quello della formula Holiday Inn di Camels Wilson, che è un impresario edile americano che inventa lo stile Holiday Inn grazie al quale tutto è standardizzato, l'hotel dello standard, da Milano a Tokyo a New York a Timbuktu, lo standard è quello, ok? Per esigenze di costi di costruzione, costi di allestimento, letti standard, costi di pulizia, costi standard anche di pulizia, materiali standard, puntini, puntini, puntini. Beh, ristoratore svizzero, impresario edile americano, Leonardo Zagner, poeta italiano. Già questo mi piace, l'avvergo diffuso, l'ho conosciuto nel 96, mi sono innamorato anche per questo, nasce da un poeta, il nome viene fuori dal Friuli. Il primo progetto completo è realizzato a San Leo nell'89, il primo convegno nazionale a Campobasso nel 98. Pensate, il governo nazionale è riconosciuto l'albergo diffuso nel 2011. Dopo un po' di tempo, finalmente, l'albergo diffuso è riconosciuto a livello nazionale come formula alberghiera. Normativa regionale nel 98, la Sardegna, la regione Sardegna sta la prima a legiferare in questo campo, l'albergo diffuso, l'ha classificato, l'ha riconosciuto. Oggi ci sono 17 regioni che normano l'albergo diffuso, in realtà sono di più. Piemonte, Toscana, Sicilia, provincia di Bolzano stanno lavorando per normare l'albergo diffuso, quindi sarà in tutte le regioni ormai una realtà riconosciuta per legge. Non è che non si possa fare dove non c'è la legge. In Sicilia non c'era la legge, l'hanno fatto. Valdicam, avete visto? Prima, vi ricordate? Quali sono le forze? Forze che potremmo utilizzare anche noi per preparare un progetto. Modello di ospitalità alberghiera originale. È un modello di ospitalità originale, made in Italy, riconosciuto come tale da tutte le testate che ne parlano. testate, servizi radio, andate a vedere in internet, vi consiglio di utilizzare al meglio questo strumento per acquisire informazioni. È un modello italiano esportabile senza grossi adattamenti in tutto il bacino mediterraneo. Si sta facendo, già, stanno già nascendo alberghi diffusi in Spagna, in Croazia, in alcuni paesi dell'est, in Svizzera, e ne parlano in Germania, stanno cercando di realizzare in Germania, anche altrove, anche oltreoceano. Se ne parla in Brasile, se ne parla in Venezuela, a Cuba, e via dicendo. Insomma, lo stiamo, dopo averlo creato, esportandolo. È un albergo che non si costruisce, è una delle sue forze. Non serve costruire cose che già ci sono. Cominciamo con il far rendere qualcuno di quei 20 milioni di... in questo paese. Ed è anche un motore dello sviluppo territoriale. Poi, eventualmente, lo vedremo. Non è una bacchetta magica, se no staremo qua a raccontarci le bugie. E chi lavora in marketing turistico non racconta bugie. Se no viene scoperto, viene gambizzato, letteralmente, dall'ospite, dal cliente, dal turista. Ha maggiori oneri di gestione. Non si danno in affitto, in locazione turistica camera e bagno. Il binomio classico dell'albergo qual è? Camera, bagno. Giusto? Eleo suite, camera, salottino, bagno. Quello è. No, si dà case intere, case cielo, terra, cioè case che hanno l'ingresso al piano terreno, magari la zona giornata piano terra, zona notte al primo piano, e o anche un secondo piano, case cielo, terra. Alle volte con cortile, alle volte no. Si danno appartamenti, c'è unità abitative intere, con ingresso, soggiorno, cucina, corridoi, camere, due, uno, due bagni, alle volte la pertinenza del cortile e quant'altro. Quindi ci sono più costi per consumi elettrici, ci sono più costi in estate per tenere condizionata l'abitazione, per condizionare l'aria, per raffrescarla. raffrescarla. Non si può uscire, per quanto riguarda la manutenzione, una cassa panca dell'Ottocento con un qualsiasi prodotto, tutto rispetto per l'IKEA, ma qua dentro non se ne vedono dei mobili IKEA. Ci sono mobili dei residenti. Io dico spesso, casse panche vuote, ma piena di storia. Le casse panche delle nonne, delle madri, delle bisnonne, richiedono cera d'api, richiedono attenzione, non si possono pulire con una passata come fossero prodotti industriali di vent'anni, dieci, cinque anni fa. Quindi ci sono costi di manutenzione più alti. E poi il fatto che è orizzontale, richiede al personale di spostarsi dall'abitazione. Giusto? Deve andare a pulire una camera, non è che si caccia l'ascensore, salgo e scendo, deve andare a pulire una camera che è entro 200 metri dal punto di cui è arrivato l'ospite, si è fatto registrare, ha lasciato il documento, ha preso le chiavi. È chiaro? Quindi la debolezza è che richiede delle modifiche al modello, al modo di gestione di un'impresa alberghiera. Non è un albergo, è più di un albergo. Richiede un modo per gestire questa struttura. Porta anche delle opportunità, delle occasioni. Noi in Italia abbiamo una concezione sbagliata delle opportunità, secondo me, all'estero è molto più chiaro. L'opportunità è sempre qualcosa di buono, di positivo. Quale opportunità può essere? sia opportunità che opportunismo. No, l'opportunità, c'è anche l'opportunismo buono, oppure l'opportunità, come dire, malmessa. Ma l'opportunità e l'opportunismo possono essere tutte e due buone. Sono opportunità e opportunismi buoni quelle che ci possono portare risultati nel breve, nel medio e nel lungo termine. L'opportunismo è risultato subito adesso, domani non lo so, domani mi taglio le gambe. se faccio un accordo con un tour operator, giusto? Di due anni, o di un anno, o di sei mesi, e gli do un allotment di camere, tu dal primo di maggio all'ultimo di maggio hai questo allotment. Però poi ho l'opportunità di vendere quattro camere a un gruppo di tedeschi, di italiani, o di quello che volete voi, a un costo unitario per camera che è di tre volte, quando il tour operator me l'ha già pagato, beh, lì sono opportunista, lo vendo a loro, non ho più quello spazio libero per il mio tour operator, gli pagherò qualcosina di penale se lo voglio, ma la fiducia che mi ha dato quel tour operator me l'ascordo. Mi brucio un tour operator, me ne brucio due, me ne brucio tre, mi brucio un canale di vendita, un canale di vendita medio, che mi ha tanti dei miei confini, che non basta internet. è chiaro? La differenza. L'opportunismo buono è quello che riguarda me oggi, domani, dopodomani, e dopodomani ancora, e dopodomani ancora, uno, due o tre anni. Meglio ancora, sei intelligente, è quello che cerca di fare la fuga diffusa, poi vedremo. Quindi valorizzare bene i privati, valorizziamo bene i privati, abitazioni, case, case vuote, ho poco utilizzate, ho utilizzato un mese all'anno da ripetare che tornano in estate, ma 11 mesi, cosa sono? Vuota, e l'Imu chi lo paga? Anziché altro, la manutenzione di cui c'è sempre bisogno. Abitazioni, persone, imprese, competenze, protezioni locali, queste sono un sacco, un sacco, un sacco di risorse di cui ogni nostro paese è pieno, ogni nostro angolo è pieno, ogni angolo di questo edificio è pieno di una risorsa. Certo, se la guardiamo con i nostri occhi non le vediamo mai, ma se le guardiamo con gli occhi di chi viene da Londra, da Berlino, da Milano, da New York, da Canada, da dove venivano le persone che erano in aeroporto ieri, 20, dietro di me, col bagaglio smarrito, a Fiumicino. Ok? Quindi, il consiglio è evitare Fiumicino, cioè il consiglio è consigliare ai clienti di evitare Fiumicino, perché è un buco nero. Capiti vicino, stai sicuro che qualche cosa, puoi aspettarti qualche cosa. Poi hanno fatto notte dei miglioramenti, però il consiglio è questo. Valorizzare bene i pubblici, ecco perché, ecco perché collabora il pubblico col privato. Che cosa ne viene al sindaco di collaborare con un'impresa? Dove metterci nella testa del sindaco, svitare la nostra, pip 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 pip, metterla lì, metterci prima la testa del nostro cliente, il nostro ospite, chi 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 chi, e guardare quello che abbiamo attorno con gli occhi di chi viene da fuori. E poi, quando parliamo di partnership, svitiamo la testa del cliente, la mettiamo qua, no? E ci avvitiamo quella del sindaco. Che vantaggi ho, sì io sindaco, a collaborare con te? Beh, questi signori sindaci imparano, possono valorizzare infrastrutture, palestre, centri anziani, edifici di proprietà pubblica, ovviamente, piccole sale e congressi, infrastrutture turistiche, i percorsi culturali, l'osia archeologica, le grotte, tutto quello che è, ricade sotto il pubblico, può far parte di un'offerta territoriale in questo piccolo prodotto che si chiama albergo diffuso. Albergo diffuso dà anche un'altra lezione, qui apri e chiudo la parentesi, statistiche fortune, dicono, fortune, si fa le statistiche delle 50 imprese più innovative al mondo ogni anno, 50, best, 50, best, 100, eccetera, eccetera, le 100 più innovative, 50 più innovative, le 250 più innovative, eccetera, eccetera, il turismo è indietrissimo nell'innovazione. Il turismo, rispetto a altri settori come la tecnologia, come i trasporti, ad esempio, è un settore indietrissimo nell'innovazione. La compagnia più innovativa nel turismo è la Virgin. Virgin. La Virgin sappiamo cos'è, possiamo discutere anche il caso Virgin, perché è innovativa, ma è un colosso. La Virgin è un colosso. Virgin Radio, Virgin Airlines, Virgin Records, Virgin Space, viaggi orbitanti, adesso ha comprato, il titolare ha comprato un pianeta perché medita di poterci fare una base per il turismo stellare. Non si ragiona mai in piccolo, think big. Ragioniamo, il mondo è grande, Inter ci mette nelle condizioni di guardare al mondo, ragioniamo in termini globali. Beh, l'albergo di Fuse nel suo piccolo fa questo. È stato premiato alle Nazioni Unite nel 2008 e ha avuto l'Oscar per il turismo a Londra nel 2009 o 2010, mi ricordo più. Poi lo vediamo. Quindi non serve per essere grandi, per essere molto innovativi. Questo è il messaggio che dà. Quindi, il sindaco intuisce, prego. Ah, la pausa? No. No, no, no. Allora, se non è da aggiungere non che era per il servizio privato, da un nuovo sguardo dal territorio quindi qui al Salento, anche se penso sia una situazione comuna di un comune molto particolare in alcuni paesi si vive come una sala di animato non progressivo delle invitazioni che non riescono ad essere optimizzate. Cioè, non è facile internazarsi con le punti liberali con il privato però sicuramente è una forma di valorizzazione di tante tante case che si infezioni vengono svuotate che si infezioni non è sento un esempio del verbo di rinforzo che è un verbo di rinforzo che sta a essere richiato che è stato realizzato dal rinforzo di un'inizio di un canale di l'eura e di un'inizio di un'inizio di un'inizio di un'inizio soprattutto nell'azio di un'inizio dove si attraverà benissimo e poi si attraverà ci sono usciti da creare soprattutto di un'inizio che è benissimo e come è anche leggo di un'inizio ma il qualificare le case addonali le case addonali ha formato le persone quindi evitare gli artigiani cioè per esempio per il primo di questo per il viso c'è un sacco molto particolare che è stato fatto da artigiani che hanno utilizzato solo le scelte di un materiale nostro quindi noi abbiamo deciso Grazie. Grazie molto per quello che ha detto. Grazie a tutti. 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 pretendono di assumere la guida di queste strutture, il sindaco in primis, ma io non conosco amministrazione pubblica che nasce per fare fatturato, nasce per offrire servizi ai cittadini, per catturare finanziamenti pubblici, quello sì, ma per fare scontrini sinceramente non, alcuni dicono che il pubblico non riesce neanche in un'edicola, può gestire nemmeno un'edicola, figuriamoci un albergo diffuso e questo è quello che succede, qua parliamo di imprese, il sindaco, l'amministrazione pubblica sono una parte importante di questa proposta, ma non gestiscono la proposta, non guidano la proposta, chi la guida è un imprenditore o un insieme di persone che crea una struttura economica che si chiama impresa, creazione di impresa. Un altro, ecco lo dico perché ci sono associazioni in giro che danno questa idea, che il sindaco sia il motore di tutto, ti portiamo i finanziamenti per creare l'impresa che vuoi, in cui tu sei la prima donna, questo è un problema. Un altro rischio è che il centro storico venga per così dire disneificato, cioè venga snaturato, ci sono case in cui si interviene a punto di vista architettonico con travi in acciaio o vetro a specchio o alluminio appoggiato su muri del 600, balaustre in cristallo su vicoli di acciotolato del 1400 e aberrazioni di questo genere. Ecco, allora queste cose distruggono il sogno agli occhi di chi frequenta un paese, diciamolo chiaramente quando qualcuno propone, qualche architetto, insieme ad altri che fanno le cose bene quando qualche architetto o ingegnere o altro propone interventi di questo genere. In questi casi si snatura la storia, la cultura di un posto per il nome di che cosa non si sa. Quindi le minacce ce ne sono diverse. Esistono anche dei limiti, allora i limiti rispetto ai problemi che differenza c'è? C'è la pausa, volete fare la pausa? Grazie.